Ciao ragazzi e benvenuti nella seconda parte del video dove vi spiego come creare una collezione di 10.000 NFT Ricapitolando per chi non avesse visto la prima parte che vi lascio qui sopra nelle schede e sotto in descrizione In quel video vi spiego come generare 10.000 immagini che poi una volta registrate in blockchain diverranno i vostri NFT In questa seconda parte invece vedremo come caricarli su un marketplace come OpenSea Per prima cosa dovete sapere che un NFT può essere caricato con due differenti standard Il primo è molto semplice, basta andare su Create, caricare la vostra immagine, dargli un nome e volendo compilare tutti questi campi opzionali Scegliete la blockchain di appartenenza e cliccate su Create, verificate di non essere un robot e il vostro NFT sarà creato Come potete vedere qui sotto nei dettagli il token standard del vostro NFT sarà l'ERC1155 Però se andassimo su un NFT di una collezione molto importante come ad esempio i Boredepi Hot Club Nei loro dettagli potremo vedere che il token standard è l'ERC721 Ma qual è la differenza sostanziale tra il nostro NFT e questo? Se andassimo sull'indirizzo del nostro contratto potremo vedere che il token tracker è OpenSea Collections Quindi il contratto è stato creato da OpenSea Mentre se andassimo su un Boredepi Hot Club e cliccassimo sempre l'indirizzo del contratto Potremo vedere che il tracker sarà Boredepi Hot Club con la loro sigla Questo perché l'NFT è stato caricato in un altro modo che è anche quello che vi farò vedere io in questo video Conviene usare quindi questo metodo perché è più professionale Le collezioni più grandi usano questo Per questo metodo avrete bisogno di un IPFS Ma che cos'è l'IPFS? L'Interplanetary File System è un protocollo di comunicazione e una rete peer-to-peer Per l'archiviazione e la condivisione di dati in un file system distribuito Sostanzialmente tutto quello che andremo a caricare nel nostro IPFS sarà per prima cosa reso pubblico dal nostro PC E successivamente inviato ad altri peer, ovvero ad altri PC connessi alla rete Che renderanno quei file disponibili anche se il nostro PC dovesse essere spento Andate su Install e installate l'IPFS Desktop Una volta scaricato ed aperto ci troveremo in questa schermata Noi andremo nella sezione File e come potete vedere qui ci sono le cartelle contenenti i miei file Ora dovremo andare su Importa, Nuova cartella, io la chiamerò Images Prova Ed in questa cartella noi andremo ad inserire tutte le immagini che abbiamo generato Mi raccomando per ora solo le immagini Infatti come potete vedere adesso questa cartella avrà questo CID Ovvero il Content Identifier Un identificatore univoco per questa cartella nella rete Adesso dovremo andare su questi tre puntini, impostare pinning sul nodo locale Così che questa cartella venga condivisa con gli altri computer della rete Una volta fatto questo dovremo cliccare sempre sui tre puntini e copiare il Content Identifier Una volta copiato torniamo su Visual Studio Code Con il codice che vi ho fatto vedere nella prima parte E dovremo andare ad incollare questo CID al posto del New Uri to Replace Infatti qui possiamo leggere ipfs due punti doppio slash e questa dicitura che andrà rimpiazzata Una volta incollato il nostro CID faremo CTRL S per salvare o CMD S su Mac Adesso qual è il problema? Se noi andassimo a far ripartire tutto il programma Anche i file con le immagini sarebbero modificati E quindi questo Content Identifier non sarà più valido Perché questo valeva solamente per quella cartella di file Se noi ne creassimo un'altra e l'andassimo a ricaricare sull'ipfs Avrebbero un codice diverso Ed è qui che entra in gioco quest'altro codice Ovvero l'update info.js Tutto quello che dovremo andare a fare adesso è digitare Node.utils che è il nome della cartella Slash update trattino basso info.js che è il nome del file Se aveste generato 10.000 immagini questo processo potrebbe richiedere un po' di tempo Ma non toccate niente sul pc perché tutto sta funzionando correttamente Dovete solo aspettare un po' Adesso se noi andassimo a verificare le immagini sono le stesse Però se andassimo nei file json potremmo vedere come nell'ipfs sarà specificato il nostro CID Senza però aver cambiato le immagini perché abbiamo utilizzato un codice specifico Solo una volta fatto ciò possiamo tornare sull'ipfs E importare anche la nuova cartella Ovviamente i nomi che io do dalle cartelle sono indicativi Voi potete utilizzare qualsiasi altro nome Aprite questa cartella e andate ad inserire i file json Possiamo inserirli tutti anche il metadata Tanto poi non sarà calcolato Anche in questo caso dovremo andare a impostare il pinning Giusto per darvi un'idea adesso chiunque digitasse nel browser IPFS due punti doppio slash e questo CID Slash uno dei file che è all'interno E cliccasse invio Lo vedrebbe apparire nel suo browser Questo in tutto il mondo Questo ci tornerà utile perché adesso andremo a creare uno smart contract proprietario Come quello dei Bored Eppi Hot Club Che collegandosi a questo IPFS sarà in grado di caricare le immagini da solo su OpenSea Per avere questo contratto basterà cliccare sempre il link di GitHub in descrizione Andare su Code e fare l'install dello zip Una volta scaricati ed estratti i file Recatevi sull'altro link che vi lascio in descrizione Ovvero remix.ethereum.org Quell'idea che ci lascia a disposizione Ethereum per creare i nostri contratti Andate qui sulla sinistra e cancellate questi file che sono già preimpostati Io questo lo faccio sempre E una volta cancellati tutti dovremo importare i file che abbiamo scaricato Purtroppo il sito non ci permette di caricare la cartella intera Quindi dovremo andare noi ad inserire i file uno per volta Ma tranquilli che non sono tanti Per prima cosa intanto andiamo a caricare questo file Poi andiamo a creare una cartella con questo nome Mi raccomando rispettate le diciture Apriamo questa cartella e vediamo quello che c'è all'interno Quindi dentro questa cartella dovremo creare altre tre cartelle con questi nomi identici Adesso andiamo dentro la prima cartella E vediamo che c'è questo file Quindi andremo qui E carichiamo adesso dentro ogni cartella i file che ci dovrebbero essere Una volta inserite a mano tutti questi file e tutte queste cartelle Il gioco sarà fatto Tranquilli che tanto solamente le cartelle dovrete crearle voi Mentre per i file all'interno basterà selezionarle tutti e cliccare apri Adesso andate nell'ultimo file qui in basso Cambiate il nome del contratto con il nome del vostro progetto Una volta cambiato il nome con il nome del vostro progetto Dovrete modificare solamente quei parametri che vi dirò io Innanzitutto qui nel max supply Ovvero la quantità massima di NFT che potranno essere generati Dovrete inserire il numero massimo di immagini che avete creato Se ne avete creati 10.000 mettete 10.000 Ma io ne ho creati 10 e quindi inserirò 10 Adesso qui nel max mint amount Ovvero il numero massimo di NFT che possono essere generati per volta C'è scritto 20 Ovviamente a me 20 non va bene Visto che io ne posso fare massimo 10 Però in generale vi dico che anche se ne aveste creati 10.000 Il massimo che potete mettere qui è 50 Altrimenti vi darà errore Oppure vi farà pagare delle commissioni di rete molto alte Io adesso andrò a mettere 5 E cancellerò anche questo messaggio Che mi invia automaticamente 20 NFT Questo sia perché io ne ho 10 Ma potrei anche mettere 10 Ma non avrebbe senso per il fine del video Potrete lasciarlo o meno Semplicemente una volta fatto partire il programma Vi troverete o già con 20 NFT O con nessuno se lo eliminate Ma tanto poi potete crearle in seguito Una volta apportate queste modifiche Andate qui sulla sinistra E compilate il file Apparirà la spunta verde se avrete fatto tutto correttamente Potrebbe darvi qualche errore In caso qui aveste sbagliato nella trascrizione di alcune cartelle Per esserne sicuri ricontrollate Adesso andate qui nell'ultima icona in basso E nell'ambiente selezionate Inject Web 3 E poi vi verrà chiesto da Metamask di collegarsi a questo sito Io autorizzo tutto E come potete vedere qui sotto apparirà che siamo connessi Io sto utilizzando quest'account che uso per le prove E sulla rete Ethereum principale non ho niente Lo stesso vale per il network di Polygon dove non ho abbastanza fondi Per questo andrò ad utilizzare la rete di test RinkB Dove mi sono fatto accreditare 0.1 Ethereum Che però non sono miei ma sono solamente per i test Come potete vedere infatti qui sotto apparirà che non sono più connesso alla main network Ma la RinkB Voglio ricordarvi che l'unica differenza è che questo è OpenSea.io Ovvero il marketplace vero e proprio Mentre io collegandomi con la rete di test RinkB Li caricherò sempre su OpenSea Ma sulla loro testnet Ovvero il loro marketplace di prova Dove io posso caricare tutti gli NFT che voglio su una rete di test E non su quella reale La procedura però non cambia Semplicemente connettete Metamask o alla rete di test Se volete fare dei test come sto facendo io per questo video O se no alla rete principale Il procedimento da qui in poi è lo stesso Ora qui dovrebbe già essere selezionato Ma se così non fosse cliccate e andate a cercare il contratto con il nome che gli avete dato voi Cliccate su questa freccetta Questa parte è molto importante Perché qui andremo a decidere il nome del contratto Per intenderci quello che metterete qui nel nome sarà quello che apparirà qui Mentre quello che metterete nel simbolo sarà quello che apparirà qui Adesso in questa casella dovremo inserire IPFS due punti doppio slash Ed il CID della cartella JSON Che andremo a copiare E incollare qui Ricordatevi una cosa molto importante Di aggiungere un altro slash alla fine del CID Altrimenti il processo non andrà a buon fine Una volta fatto ciò cliccate su Transact Per trasparenza vi devo dire che se vi trovaste sulla rete reale e non su quella di test Dovrete pagare appunto dei soldi reali Non delle gas fee prese dagli Ethereum che ci vengono regalati per fare appunto questi test Si tratta di una cifra molto bassa ma comunque io ve lo devo dire Adesso confermate E dovrete aspettare che vengano fatte le verifiche di rete Questo processo può richiedere qualche secondo o fino a qualche minuto Non appena apparirà questa spunta verde saprete che il procedimento è andato a buon fine Qui sotto infatti vi viene creato il contratto Se adesso andassimo in questa funzione Total Supply e cliccassimo Vedremo come non esiste nessun NFT Infatti se tornassimo su OpenSea In questo caso nella testnet perché appunto è di prova Ma se voi l'aveste fatto sulla rete reale Basterà andare su OpenSea.io e non su testnet.opensea Ora se ricarico la pagina posso vedere come non appare niente Questo appunto perché gli NFT non sono ancora stati creati Ma se noi salissimo nella funzione di Mint Cliccassimo questa freccetta E inserissimo il nostro indirizzo E la quantità di NFT da creare In questo caso non possiamo superare 5 perché io ho scelto che il massimo sia 5 Ma vi ricordo che voi potete inserire un numero diverso Ma che comunque non superi i 50 per non avere dei problemi Inserisco 5 e clicco su Transact Anche qui confermo E non appena la transazione andrà a buon fine Io posso scendere qui sotto Cliccare di nuovo su Total Supply E vedere come adesso la Total Supply è di 5 E se adesso andassi qui e inserissi 1 Cliccassi su Token URI Vedrei come l'indirizzo del primo file è IPFS 2.0.0.1.json Vediamo però cosa succede se digitiamo questa URL nel nostro browser Se la digitassimo ci aprirebbe questa pagina Dove c'è scritto il nome della collezione Che io qui non ho modificato ma che voi dovrete modificare La descrizione è uguale Io non l'ho modificata ma voi dovrete inserire una vostra descrizione Poi tutti gli attributi che verranno inseriti automaticamente E poi questo indirizzo IPFS il CID 1.png Se noi adesso andassimo a inserire questo sempre nel nostro browser Ci aprirà questa immagine Quindi sostanzialmente OpenSea tramite questo indirizzo Saprà che attributi dare al nostro NFT e dove andarlo a prendere Se adesso infatti tornassimo su OpenSea e aggiornassimo la pagina Potremo vedere come ci sono i nostri NFT Se ci fate caso questo numero 4 ancora non appare Questo perché la testnet è molto lenta A volte per risolvere questo problema o aspettiamo del tempo O entriamo nel nostro NFT Refresciamo i metadati Usciamo da questa schermata e riaggiorniamo la pagina Continua a non apparire ma questo non è un problema vostro Vi ripeto che è un problema della testnet E si risolverà da solo con il passare di poco tempo Mentre molto spesso sulla rete reale e non sulla testnet questi problemi non ci sono O meglio ci sono ma in numero molto minore Però questi sono 5 Noi ne abbiamo creati in tutto 10 O nel vostro caso 10.000 Quindi una volta che ne avete caricati solamente un piccolo numero Come si fa a crearne altri? Semplicemente torniamo nella sezione Mint Io lascio 5 perché ne ho già creati 5 e in tutto ne ho 10 E clicco di nuovo su Transact Confermo E aspetto sempre le conferme Mentre aspetto queste conferme Io vi ricordo che qui il costo può essere modificato Io infatti ho lasciato 0,05 Ether perché non ho interesse a cambiarlo Ma voi potete mettere il prezzo che più desiderate Una volta che la transazione è andata a buon fine Torniamo su OpenSea Aggiorniamo nuovamente la pagina E vediamo come sono apparsi gli altri 5 Anche questi hanno lo stesso problema del 4 Ma vi ripeto che non è colpa vostra Dovete solamente dare tempo alla piattaforma di elaborare i dati Infatti se noi tornassimo sul link di prima E qui al posto di 1 mettessimo 10 Potremo vedere come il link porterà a questa pagina Quindi viene trovata E se inserissimo sempre questo in una pagina del nostro browser Vedremo come l'immagine effettivamente venga trovata Quindi non è un problema vostro ma vi ripeto che è un problema di OpenSea Potete fidarvi Infatti io ho creato una collezione di 10.000 NFT nello stesso modo Sono tornato sulla pagina di prima E potete vedere come già il numero 10 che prima non veniva trovato Adesso appare Questo a testimonianza di quello che vi ho già detto Che ci vuole solamente un po' di tempo Adesso però entriamo nel merito Infatti se cliccassimo questo NFT Vedremo come senza aver inserito niente manualmente Ci dà già tutti i tratti Il background, il bottom lead, l'icolor eccetera E se andassimo su dettagli Vedremo come il token standard sarà l'ERC721 Ovvero quello che volevamo noi E se cliccassimo sull'indirizzo del contratto Qui avremmo il nome e la sigla che abbiamo scelto Io vi consiglio se non siete molto pratici Di non creare la vostra prima collezione di NFT Direttamente sulla rete reale Questo perché anche se si spendono solo pochi euro È meglio crearli sulla rete di test all'inizio Così da vedere se ci sono o meno errori E in caso non ce ne fossero Di procedere con la rete reale E con questo video anche voi saprete Come creare una vostra collezione di NFT E successivamente caricarla su un marketplace Io sono molto contento di aver realizzato questi due video Soprattutto perché su questo argomento Si trova molto poco in rete Soprattutto se parliamo della nostra lingua Ma anche in inglese si trova molto poco su questo argomento Spero di aver condiviso con voi Tutto quello che volevate sapere su questo argomento Una volta cliccato il mio video In caso fosse così Io vi chiedo di condividere questo video Con più persone possibili Così da essere anche voi Parte della crescita del mio canale Lasciate like Iscrivetevi al canale Ed attivate la campanellina Per non perdervi i prossimi video Io vi saluto e alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti